Cosa sappiamo di Samuele Cavallo, geniale interprete di Samuel in un posto al sole? Al centro dei recenti intrighi della telenovela napoletana troviamo Samuel, personaggio che incuriosisce e delizia il pubblico di Rai 3. Presente nella soap opera dal 2019 ad oggi, Samuel Cavallo interpreta Samuel Piccirillo. Musicista di supporto di Vulcano e fidanzato di Speranza, attualmente in crisi con la nipote di Mariella. Cosa succederà infatti tra i due dopo che Samuel ha tradito Speranza? Fino a quando non lo scoprirai? Leggi sotto per maggiori dettagli e curiosità sull'attore che lo interpreta, Samuel Cavallo. Nel 2023, dunque, l'attore pugliese compirà 35 anni. Età di Samuel Cavallo Samuel Cavallo è nato a Brindisi l'11 gennaio 1988. Prio come il suo personaggio della soap opera campane, oltre ad essere un attore, Samuel è anche un ottimo musicista e un bravo ballerino. Prima ancora di studiare teatro, infatti, Samuel ha proseguito gli studi di canto e danza senza mai rinunciare alla sua passione per il cinema e la televisione. Film e serie tv di Samuel Cavallo dove abbiamo visto suonare Samuel Cavallo? Il poliedrico attore esordisce sul grande schermo nel 2005 nel film La terra di Sergio Rubino. La sua carriera comprende anche numerose apparizioni nel mondo musicale, tra cui la febbre. Mentre nel 2009 inizia la sua presenza nel romanzo Tu se fu d'Amour 2. Del sabato sera, regia di Claudio Insegna, Musical, stagione 2016 fratto 2017, Dirty Dancing, regia di Federico Bellone, Musical, 2018, solo per citarne alcuni. Samuel Cavallo è fidanzato cosa sappiamo della vita privata di Samuel Cavallo? Sebbene all'attore pugliese piaccia mantenere la privacy sui suoi affari più privati. Sappiamo che la sua attuale fidanzata è Elisa Angelini, e la madre della loro prima figlia, Isabel. La nascita del bambino è stata annunciata dall'attore attraverso i social network.